Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Devo dire che non avrei mai pensato di partecipare in qualità di Presidente della GES a un convegno con accanto Elio. Ma neanche io. Immagino appunto che la cosa sia reciproca. Ma questa è la cosa bella di questa sera. Quello che abbiamo cercato di fare è proprio un tentativo di riavvicinarci noi come magistrati ai cittadini ma a questo mondo che forse c'è sempre più sconosciuto e che invece è il nostro mondo. Perché noi amministriamo giustizia in nome del popolo italiano e i processi sono fatti prima di tutto di persone. Quindi dovremmo occuparci forse un po' di più, più che di altre cose. Dovremmo tornare ad occuparci delle persone. Quello a cui abbiamo pensato era appunto nell'ambito di questa iniziativa bella che è uscita come tema dall'ultima Assemblea nazionale era quella dei dialoghi appunto con la magistratura. Noi riprendendo il tema dell'indipendenza abbiamo voluto interpretarlo più appunto dalla parte dei cittadini provando a dire ma i cittadini tengono ancora l'indipendenza dei magistrati, per loro è ancora importante e che tipo di magistrato indipendente i cittadini hanno diritto di avere. Quindi un po' l'idea che non tanto noi abbiamo della nostra indipendenza ma quello che gli avvocati, i professori, i rappresentanti della società civile e insomma un personaggio come Gerardo Colombo che è stato magistrato e che comunque si è sempre occupato dei temi della giustizia pensano che debba essere. Vi auguro quindi un buon pomeriggio e do la parola al Presidente La Lumia che ci ospita e a cui lascio la parola per un saluto. Grazie, innanzitutto bentrovati, bentrovati a tutti voi e benvenuti nella nostra biblioteca Giorgio Ambrosoli che è un po' il fiore all'occhiello del nostro ordine sia logisticamente sia per quello che rappresenta. Devo dire che sono molto contento e siamo molto contenti come Consiglio dell'Ordine di ospitare un evento di questa levatura perché il tema è importante. Noi stessi ce ne siamo occupati in più eventi che negli ultimi mesi hanno contraddistinto la nostra offerta formativa che stiamo facendo virare per certi aspetti anche verso il dibattito, verso il confronto, verso il dialogo. proprio perché crediamo che la giustizia debba essere parte preponderante nella vita dei cittadini perché a volte parliamo di giustizia senza forse avere presente il concetto di percezione che i cittadini hanno della giustizia e forse partire dal modello concettuale che noi come operatori della giustizia abbiamo ma che restituiamo come idea sociale ai cittadini ci dovrebbe aiutare. Mi è venuta alla mente proprio mentre preparavo il mio intervento perché poi un saluto in realtà a questo dibattito una ricerca che abbiamo presentato insieme a Pierfilippo Giugioli alla fine di gennaio alla Camera che è una ricerca sulla percezione proprio che i cittadini hanno della giustizia dei giudici e degli avvocati e quindi del sistema giustizia in generale l'abbiamo fatto come osservatorio dei laici sull'ordinamento giudiziario devo dire che ci sono dei dati che mi hanno colpito parecchio e che in realtà non sono neanche particolarmente sconvolgenti o sorprendenti faccio riferimento a uno proprio perché mi voglio limitare ad un saluto poi avremo modo magari in futuro di soffermarci su questi temi. Ecco il dato che mi ha lasciato un po' devo dire così a riflettere è che c'è un livello di fiducia negli amministratori della giustizia quindi a tutti i livelli piuttosto contenuto cioè i cittadini non hanno grande trasporto per come viene amministrata la giustizia e amministrata intendo non solo dai magistrati ovviamente intendo da chiunque operi nell'ambito della giustizia purtroppo un intervistato su tre soltanto un intervistato su tre ha un alto livello un alto livello di fiducia nella giustizia allora forse ci dobbiamo chiedere siamo noi che non riusciamo a trasferire ai cittadini un concetto di giustizia che non soltanto deve essere rispondente a dei principi che sono ovviamente salvaguardati e protetti alla Costituzione o forse non riusciamo a fare percepire l'utilità se mi passate l'espressione forse un po' brutale della giustizia perché dobbiamo far passare il concetto in questo noi come avvocatura ci stiamo impegnando tantissimo che dietro l'amministrazione e la giustizia c'è in primo luogo la tutela dei diritti dei cittadini ecco da questo punto di vista purtroppo le cronache sempre di più ci portano ad un confronto diretto con i cittadini però guardate che oggi in un contesto in cui diciamo il sensazionalismo dell'opinione prevale sulla realtà dei fatti che vengono accertati in giudizio e quindi spesso siamo travolti tutti quanti accusa, difesa e qualsiasi parte in processo dalla mediaticità di quello che viene fatto nelle aude di giustizia ecco forse questo se lo riportiamo ad un dato per cui tutto quello che rappresenta la giustizia deve rimanere all'interno del sistema giustizia e quindi del palazzo per quanto riguarda l'attività giudizialmente intesa ecco forse in quel caso facciamo un servizio reale ai cittadini perché guardate il concetto di indipendenza della magistratura è un concetto sacro direi intoccabile chi mi conosce sa perché ci siamo confrontati più volte che un tema che è venuto fuori anche nel dibattito sulla separazione delle carriere quindi è evidente perché i disegni di legge che sono in discussione in questo momento per certi aspetti riguardano anche l'indipendenza della magistratura che attualmente è indipendenza da ogni altro potere nel progetto di legge è indipendenza da ogni potere quindi al di là della terminologia però ecco focalizziamoci su questo tema sul fatto che la garanzia di indipendenza che è garanzia di imparzialità che è garanzia di terzi età nel giudizio è un valore fondante però dobbiamo fare in modo che i cittadini abbiano ben presente che la giustizia è un valore è un ideale che insieme a salute e istruzione è una di quelle tre colonne indefettibili di ogni sistema democratico però dobbiamo impegnarci tutti avvocati, magistrati personale amministrativo chiunque operi nel settore giustizia a far presente che ogni singola attività che noi svolgiamo nell'ambito della giustizia è un qualcosa che va a favore a beneficio ovviamente idealmente inteso della collettività grazie e buon lavoro Allora inviterei Roberto Crepaldi che coordina il dibattito Scusate che io ho seduta di consiglio Arrivederci Allora benvenuti a tutti e grazie innanzitutto ai gentilissimi ospiti che hanno accettato di venire a discutere con noi tra di loro e con noi di questo argomento che spero sia interessante e spero che sia interessante diciamo così un po' diverso dal solito un dibattito nel quale due sono gli elementi secondo me di novità il primo è il tentativo di parlare di indipendenza della magistratura dal punto di vista del cittadino non quindi come una caratteristica autoreferenziale quasi corporativa dei magistrati ma come una caratteristica che deve contraddistinguere la magistratura per tutelare meglio i diritti del cittadino quale ultimo fine della giustizia e il secondo è quello di parlarne cercando di coinvolgere il cittadino per capire come il cittadino vive questa indipendenza diceva prima il presidente Lesti che tutto parte da una delibera dell'assemblea dell'ANM tutto parte in realtà da Milano e quindi Milano ha anche questa diciamo così questa responsabilità perché tutto nasce dal caso milanese qualcuno di voi se lo ricorderà di Artemus e la conseguente iniziativa disciplinare contro i colleghi della Corte d'Appello da Milano nasce un'iniziativa forte nell'Associazione Nazionale Magistrati segue il caso apostolico questo tutti ce lo ricordiamo anche chi non direttamente fa il nostro mestiere e c'è la delibera dell'ANM che invita ad organizzare momenti come questi prima del congresso e secondo noi secondo me quello che era rimasta in evasa era la domanda che emergeva forte in quel documento che approvamo a Milano prima dell'Assemblea dell'ANM cioè cosa succede ai cittadini se il giudice tutte le volte che decide si chiede che cosa rischio e a quella domanda secondo me bisogna rispondere non dal punto di vista del giudice o del pubblico ministero ma dal punto di vista del cittadino come cambia la qualità e la quantità dell'azione giudiziaria quando il giudice si chiede il giudice o il pubblico ministero il magistrato in generale si chiede che cosa rischio adottando un provvedimento e abbiamo deciso di confrontarci non solo tra giuristi ma anche con qualcuno che giurista non è e allora abbiamo chiesto alla professoressa Francesca Biondi che ringrazio però sono giurista no no infatti il non giurista arriva in fondo no è la più giurista l'ho presentata per prima perché è la più giurista di tutti la più giurista di tutti che ringrazio doppiamente perché ha accettato anche con un preavviso migliore degli altri diciamo che insegna diritto costituzionale qui all'università degli studi agli studi di Milano e che conosciamo bene perché anche lei partecipa spesso e partecipa ormai stabilmente all'autogoverno seppure in in versione locale abbiamo chiesto ad altri due giuristi di esperienza di raccontarci appunto la loro esperienza che sono il dottor Gerardo Colombo già pubblico ministero qui a Milano prima però e anche dopo però diciamo magistrato a 360 gradi l'avvocato Salvatore Scuto che non ha mai fatto che l'avvocato adesso non mi dica che ha fatto il pubblico ministero e Stefano Bellisari per tutti Elio che però il giudice l'ha fatto in due trasmissioni diverse quindi in qualche modo forse tre addirittura forse questa esperienza lo avvicina anche un po' al nostro mondo diciamo ma a lui chiederemo il riflesso di quello che diranno i giuristi cioè di quello che ci diremo che cosa passa al cittadino anche a un cittadino che però ha una come lui ha dimostrato in tutti questi anni una attenzione alla società un'attenzione alle questioni che si pongono impongono nella società particolarmente particolarmente elevata quindi chiederei senza rubare spazio agli ospiti gentilissimi alla professoressa sabioni di cominciare con quello che nella nostra telefonata che preparava questo convegno ho chiamato uno spiegone cioè il tentativo di spiegare recuperare le istituzioni di diritto pubblico e spiegare da dove viene questa questione della indipendenza della magistratura quindi so che sono brevi cenni sull'universo ma sono sicuro che riuscirà a ricordarci bene i fondamenti costituzionali di quello di cui stiamo per parlare grazie per l'invito mi fa molto piacere sarà uno spieghino perché prendo dieci minuti non di più volevo però dire una cosa preliminare perché è stata interessante l'introduzione del presidente dell'ordine degli avvocati che ha fatto riferimento a come la società civile probabilmente vede il sistema giustizia lui ha fatto riferimento a un sistema nel suo complesso quindi non solo la magistratura ma l'avvocatura c'è una distanza dei cittadini rispetto al palazzo per l'amor di dio non andiamo di fronte a un giudice questo è l'atteggiamento è un atteggiamento però che a mio avviso ovviamente nasce un po' da una non conoscenza delle istituzioni e nasce però anche da un invece da un'esperienza comune di una forte incertezza di quando ci si approccia alla giustizia chissà come andrà a finire e questo però la responsabilità io non vorrei credo che si debbano assolvere in parte gli avvocati in parte i magistrati in parte perché poi ciascuno fa il suo anche la dottrina delle responsabilità perché riflette pone sempre problemi e spesso da poche risposte però prima di tutto il legislatore perché abbiamo un ordinamento giuridico talmente complesso e confuso che ovviamente alimenta questa sensazione di incertezza non solo a livello nazionale ma anche a livello sovranazionale quindi i cittadini hanno bisogno di conoscere le istituzioni però credo che questa scarsa fiducia nel complesso o timore nel complesso del sistema giustizia non nasca solo da questo mi è stato chiesto di introdurre il discorso ricordando un po' i principi costituzionali allora c'è una cosa a cui io tengo moltissimo anche quando diciamo così parlo con i miei studenti ed è ricordare lo stretto collegamento che c'è che spesso invece ci dimentichiamo tra le istituzioni e i diritti no? ah i diritti 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 quindi la prima parte della costituzione è inteccabile il principio di eguaglianza il diritto qui il diritto là dico guardate ragazzi che se le istituzioni non sono ben costruite questi diritti non sono tutelati cioè di ricordare sempre il collegamento strettissimo tra un certo assetto dei poteri e la tutela dei diritti ecco io credo che questo sia il punto di partenza secondo me per studiare la magistratura perché se le istituzioni non sono organizzate in un certo modo possiamo proclamare i diritti nella massima tutela dei diritti fondamentali ma rischiamo davvero che rimangano sulla carta e questo non si dice così ma lo si dice per esperienza perché l'esperienza che abbiamo vissuto prima dell'entrata in vigore della costituzione ha dimostrato proprio questo cioè se noi leggiamo lo statuto albertino anche solo con riferimento all'ordinamento italiano ci rendiamo conto che in realtà i diritti erano proclamati anche la separazione dei poteri era proclamata però poi in concreto veniva continuamente violata cioè l'assetto dei poteri non era in grado di garantire davvero i diritti fondamentali allora quindi il primo diciamo così concetto che secondo me deve passare alla cittadinanza è attenzione all'assetto dei poteri perché i diritti ne vengono pregiudicati rischiano di venire pregiudicati da un certo assetto dei poteri seconda questione ora la separazione dei poteri perché nel caso della magistratura il tema della separazione dei poteri è centrale ed è antica la separazione dei poteri poi se noi pensiamo ai tre poteri tradizionali ci rendiamo conto che a seconda delle forme di governo adesso ovviamente non entro in questo dettaglio il potere legislativo il potere legislativo in qualche modo si compenetrano anche nella forma di governo parlamentare in fondo è la maggioranza parlamentare che sostiene nel governo c'è un continuo non c'è una divisione nella forma di governo parlamentare netta tra legislativo ed esecutivo ma la magistratura invece è sempre lontana dal potere politico cioè la separazione dei poteri per la magistratura deve essere sempre messa lontano dal potere politico quindi la separazione dei poteri in qualunque ordinamento democratico implica che la magistratura stia da un'altra parte quindi la separazione dei poteri nel caso della magistratura deve essere incorporata nell'assetto in modo forte in modo radicale senza eccezioni perché se la magistratura non è indipendente e da chi deve essere indipendente dal potere politico ovviamente tutti i diritti fondamentali che noi proclamiamo e anzitutto il principio di uguaglianza non possono per definizione essere tutelati ora quando i nostri costituenti scrissero la costituzione del 48 di questi erano molto avvertiti perché l'esperienza fascista aveva diciamo così dimostrato come anche se l'assetto della magistratura solo in parte era stato toccato insomma ma come il potere politico era stato in grado comunque anche in qualche modo di influire e allora non solo si proclamò l'indipendenza della magistratura ma si volle garantire in modo molto forte sia l'indipendenza cosiddetta esterna cioè l'indipendenza della magistratura appunto rispetto ai poteri che stanno fuori ai poteri politico sia l'indipendenza dentro la magistratura stessa che in qualche modo nell'ordinamento previgente non era così forte dipendenza interna intendo che quando faccio riferimento all'indipendenza interna faccio riferimento al fatto che l'organizzazione della magistratura è l'unica organizzazione che non prevede alcun assetto gerarchico adesso sono generica ovviamente bisogna fare una serie di distinzioni però in nessuna organizzazione diciamo così dell'organizzazione del lavoro tutti i magistrati sono indipendenti l'uno dall'altro cosa che invece è ovviamente un principio fondamentale per la magistratura allora con l'indipendenza esterna che cosa fanno i nostri costituenti inventano il consiglio superiore della magistratura e siamo stati i primi a istituire un organo come questo adesso gliene si dice di tutti i colori e probabilmente c'è anche della ragione nel senso che una riflessione sicuramente su come il CSM ha esercitato le funzioni che la costituzione gli attribuisce sicuramente va fatta però l'idea che i costituenti ebbero era proprio quello di dire bene siccome la gestione amministrativa di questi funzionari pubblici affidata al potere politico è rischiosa noi la togliamo dal ministro della giustizia e le mettiamo a un organo diverso che è formato in maggioranza di magistrati l'idea era nuova cioè nasceva dall'esperienza di Orlando dei primi del novecento ma costruita così era nuova e infatti poi ce l'hanno copiata anche all'estero è stata una cosa che abbiamo inventato in qualche modo noi quindi l'idea di prendere tutti i magistrati separarli dall'amministrazione dal ministero della giustizia e quindi dall'amministrazione di appartenenza e affidarli ad un organo diverso tutti i magistrati sia i giudici sia i pubblici ministeri ma non è stato casuale perché quando i costituenti decisero che i vertici funzionali di entrambe le magistrature fossero membri di diritto cioè il procuratore generale della Cassazione e primo presidente della corte di Cassazione fu una scelta proprio per dire anche i pubblici ministeri rientrano nella categoria magistrati quindi possiamo discutere di tutto ma fu una scelta consapevole quella di togliere anche i pubblici ministeri dal potere politico dalla vicinanza al ministro della giustizia e metterli sotto il CSM prendo solo ancora due minuti quindi separazione allontanamento dal potere politico e poi forme di garanzia di indipendenza interna cioè quindi in qualche modo liberare i magistrati dalla presenza pressante dei magistrati di Cassazione poi c'è voluto un po' no? perché all'inizio comunque restavano tanti nel consiglio superi della magistratura il numero ha dato pian pianino riducendosi la carriera è stata modificata nel corso del tempo però la scelta fondamentale l'hanno fatta i costituenti quando hanno scritto che i magistrati non si distinguono tra loro se non per diversità di funzioni quel comma lì non va tolto dalla Costituzione scusate se parlo faccio un cenno delle proposte di riforma ma si può discutere di tutto ma quel comma va rimè lasciato lì perché è un comma fondamentale riguarda i giudici perché per i pubblici ministeri diciamo così ci sono delle forme di attenuazione di questa indipendenza interna su cui non entro perché il discorso sarebbe troppo lungo però il principio è che i magistrati anche dentro l'organizzazione della magistratura sono indipendenti ora tutto questo tutti questi valori non dobbiamo tantissutto ne darli per scontati ma soprattutto non considerarli e questo credo che sia importante parlare con i cittadini non considerarli dei privilegi no? delle forme di diciamo così il privilegio quando si dice mi ha colpito che cosa rischio è ovvio che la responsabilità porta dietro anche forme di responsabilizzazione ora nessuno vuole de-responsabilizzare i magistrati per il ruolo che svolgono e per l'immenso potere che gli viene consegnato però ecco bilanciare quel che cosa rischio con la responsabilizzazione attenzione perché l'indipendenza della magistratura è un principio costituzionale fondamentale che regola tutto l'assetto organizzativo della magistratura che alla base della separazione dei poteri e che garantisce un'applicazione uguale dei gene confronti dei cittadini quindi se diciamo così di questo parliamo credo che di questo noi dobbiamo da questo noi dobbiamo partire grazie 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 alla professoressa Biondi per la bella introduzione che ci ha reportato ma veramente in mezzo al tema di cui volevamo parlare e passerei subito senza fare chiose che non servirebbero a nulla al dato di come dire esperienza un po' più pratica cioè a chi questa indipendenza l'ha vissuta direttamente o di riflesso come magistrato o come avvocato perché quello che mi interessava sollecitare il punto su cui mi interessava sollecitare Gerardo Colombo e l'avvocato Scuto è come loro hanno vissuto e cosa è cambiato durante la loro esperienza sotto il profilo delle esigenze di tutela dell'indipendenza interna e dell'indipendenza esterna del magistrato c'è stata un'evoluzione dei tentativi di assottigliare questa indipendenza è stato attuato in modo diverso ci sono state risposte diverse nel tempo della magistratura sono state tutte efficaci queste risposte ecco so di avere anche qui chiesto uno sforzo di sintesi importante però partendo da Gerardo Colombo magari su questo vi chiederei di intervenire questo perché sono ancora considerato un pubblico ministero se no se fossi considerato un giudice avrebbe parlato prima l'avvocato è vero va bene allora prima volevo fare una considerazione di carattere generale visto che stiamo parlando del rapporto tra magistratura e cittadino secondo me al cittadino che il giudice sia indipendente non interessa niente al cittadino interessa molto che il giudice gli dia ragione sì è quello anche l'avvocato è abbastanza e credo anche al pubblico ministero cioè poi l'aspetto dell'indipendenza è un aspetto che sì va bene ma credo che non ci pensano neanche a me succede con una certa frequenza persone che conosco che mi telefonano e mi dicono ma tu conosci il giudice vata alla pesca io dico sempre di no anche se lo conosco perché mi telefonano per chiedere minimo dei minimi per sapere come la pensa no e se no se lo conosco se lo conosco bene magari potrebbero anche chiedermi di mettere una buona parola quindi non lo vogliono indipendente vogliono il giudice che gli dia ragione e anche quando hanno torto ovviamente perché se no non ci sarebbero dentro in queste cose no primo secondo io credo che il tema dell'indipendenza oggi abbia sì un rilievo per il cittadino quanto all'indipendenza dei rapporti con gli altri poteri dello Stato però molto fino a un certo punto perché questo era un dramma era una una cosa enorme quando a Poznam il mugnaio ci aveva da salvare il suo mulino oggi è un po' diverso perché sotto quel profilo il cittadino è abbastanza è abbastanza è abbastanza tutelato nei confronti degli altri poteri no abbastanza tutelato e allora allora la comunicazione dovrebbe partire molto da lontano e così coinvolgere degli aspetti diversi io credo che sia necessario riuscire a sollecitare la comprensione da parte del cittadino dell'interesse che può avere nell'avere un magistrato indipendente quindi si potrebbe cominciare a parlare della indipendenza non interna nel senso dell'indipendenza all'interno dell'apparato ma diciamo dell'indipendenza interiore perché quando la costituzione dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e dice che non sono soggetti neanche a se stessi ecco e allora lì lì forse si può cominciare a lavorare per poi estendere il discorso su tutto il resto passare dall'indipendenza interiore all'indipendenza interna e poi anche all'indipendenza esterna tenendo conto comunque che c'è questa specie di desiderio cioè l'obiettivo è un obiettivo che prescinde alla fine dall'indipendenza salvo che l'indipendenza allora interferisca con il raggiungimento dell'obiettivo cioè tutte le volte in cui perché tu possa avere ragione il giudice deve essere indipendente allora benvenga l'indipendenza però giustamente alla fine come strumento per poter essere garantito dal sistema della giustizia venendo alla domanda che mi hai fatto e quindi alla risposta e beh io qui sono più vecchio di tutti e quindi sono quello che ne ha viste più di tutti quando sono entrato in magistratura ancora non mi ricordo se ero ancora qui a fare il praticante o cose del genere però il consiglio superiore alla magistratura era composto quasi esclusivamente da magistrati della stessa corrente ce n'era uno soltanto che esprimeva un'idea diversa e era tanti anni fa e la magistratura era assolutamente allineata su un credo profondo secondo il quale nei cassetti del potere era vietato guardare era assolutamente vietato guardare quindi la magistratura era estremamente coerente perché quello era il così quello era il principio a cui si attenevano sostanzialmente tutti poi progressivamente succede qualche cosa proprio qui a Milano che arrivano che arrivano che cominciano a farsi sentire quelli che saranno immediatamente chiamati i pretori d'assalto campo del lavoro e la magistratura non tutta ma un pochino cambia c'è chi prova a fare delle cose che prima sarebbero state impensabili e però ancora esiste una fortissima resistenza da parte dell'apparato nel suo complesso e quindi cosa succede succede che ogni possibile afflato di indipendenza viene contenuto all'interno cioè c'è generalmente la Cassazione che svolge questo lavoro a me è successo siccome dicevi parlare anche di esperienze personali con la P2 e con i fondi neri dell'Iri è successo esattamente così nei cassetti del potere non si guarda se provi a guardare la procura di Roma solleva conflitto di competenza le carte vanno a Roma punto e basta e via ecco progressivamente si è andati un pochino oltre perché io credo perché perché è caduto il muro di Berlino e allora c'è stato un disorientamento da parte dei blocchi di potere che non hanno più consentito di andare avanti o di andare avanti tempestivamente su questa via e quindi e quindi e quindi e quindi la magistratura è diventata più indipendente poi se si è stata capace o meno di di gestire questa indipendenza è un discorso che vediamo se c'è un secondo giro oppure oppure no e così via di tutte queste cose qua la fin fine nel cittadino non è che si sia interessato tanto ma sotto profilo sia di questi inghippi che hanno fatto sì che i cassetti del potere non si aprissero ma sia anche della conseguenza dell'apertura o non apertura e lasciamo perdere le mani pulite che è una cosa che se volete poi ne parliamo però viene dopo la caduta del muro di Berlino sono svanite le ideologie e si attribuisce alla magistratura un compito che forse dovrebbe svolgere qualcun altro e così via perché perché non toccano la quotidianità anche se toccano delle altre cose che sono molto importanti insomma i fondi neri dell'Iri erano 360 miliardi di lire nel 1983 erano tanti soldi erano soldi che erano uscite dalle tasse che pagavano che avevano pagato i cittadini insomma ecco allora sarebbe necessario secondo me fare un collegamento con con tutto questo avevo preso un appunto tra i vari altri io credo quindi che l'indipendenza della magistratura perché sia un argomento che interessa al cittadino deve essere deve essere veramente rapportata alla sua vita quotidiana a quello che gli succede a quello che gli succede in modo che possa rendersi conto del fatto che una magistratura indipendente lo protegge non soltanto come siamo abituati a pensare noi dagli altri poteri dello Stato ma lo protegge da intromissioni di qualunque tipo adesso secondo me alla fin fine contano di più le intromissioni di poteri diversi che sono potere economico finanziario io gli ultimi anni in cui sono stato qui mi sono occupato di corruzione dei giudici lì l'indipendenza era messa a rischio dal soldo e non era messa a rischio dal fatto che allora c'è l'imperatore che ti dice fai così no? anche perché secondo me sono passati un pochino i tempi dell'imperatore che ti dice fai così se no non saremmo qui a parlarne in questo modo perché continuo a cercare di dire fai così l'imperatore che non è più l'imperatore ovviamente e però ci riesce sì e ci riesce no e vuole addirittura cambiare la costituzione se non formalmente almeno sostanzialmente per riuscire a fare quello che gli sarebbe gli sarebbe gli sarebbe impedito in una situazione in cui lo stato peraltro oggi è estremamente debole cioè non è più il sovrano assoluto e non è neanche più lo stato ottocentesco o lo stato dei primi del novecento del secolo scorso diciamo in cui esistono delle cioè voi pensate che quello che era Twitter poteva chiudere la bocca al presidente degli Stati Uniti e quindi vedete come le cose sono un pochino diverse e attenzione perché noi questo tema il problema della tutela dell'individuo della persona dei diritti personali nei confronti dei over the top non è che lo stiamo vedendo e lo stiamo vedendo tanto peraltro in una situazione in cui la magistratura nel suo complesso subisce i riflessi della mancanza di una giustizia sostanziale cioè continua a essere lì no? è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli però gli ostacoli sono ancora lì quante volte noi viviamo una situazione molto schizofrenica perché abbiamo una Costituzione che dice delle cose e il lavoratore ha diritto a una retribuzione che consenta a lui e alla famiglia una vita libera e dignitosa è vero e i cittadini lo sentono o non lo sentono e possono attribuire una responsabilità alla magistratura di tutto questo e allora dov'è l'indipendenza dal potere di una magistratura che alla fin fine lo consenta lo consente se non altro non individuando le strade attraverso cui poter raggiungere la Corte Costituzionale e far dire alla Corte delle cose a proposito del tema della giustizia intesa come la intende la Costituzione allora gli interrogativi sono tanti e bisogna riuscire a trovare una strada per far vedere al cittadino quanto una parte consistente di questi interrogativi non riguarda la magistratura e però siccome è la giustizia e la giustizia si confonde la giustizia intesa in senso di amministrazione con la giustizia intesa invece in senso sostanziale di giustizia sociale poi se c'è un secondo giro io vorrei litigare un po' con l'avvocato Scuto sulla separazione dei poteri però vediamo un pochino se si può se no lo facciamo per conto nostro gli spunti dell'intervento di Garardo Colombo sono tantissimi sono sicuro che chi viene dopo di lui li saprà tutti cogliere il primo l'esordio è stato l'avvocato il cittadino vuole il giudice che gli dà ragione anche l'avvocato anche il pubblico ministero ha detto Garardo anche il giudice del grado inferiore questo posso confermarlo rispetto al giudice del grado superiore la domanda ora è prima di arrivare a come la vive il cittadino come la vive l'avvocato cioè l'avvocato ha un po' il ruolo dovrebbe avere ce l'ha davvero non lo so il ruolo anche di trasmettere quella differenza tra è il giudice che mi ha dato torto o è la legge che mi ha dato torto cioè quella responsabilità del legislatore o del giudice che fa comprendere al cittadino da cosa deriva quello iato tra il suo desiderio di giustizia e l'esito di giustizia che ha avuto ecco qual è il ruolo dell'avvocatura e qual è il ruolo che lui ha vissuto in questi anni soprattutto rispetto all'indipendenza interna soprattutto so che questo è un tema che aprirebbe un dibattito immenso di cui parlava anche Gerardo adesso tra giudice e pubblici ministeri anche grazie intanto perché sono veramente contento di poter riflettere insieme a voi in questo pomeriggio più voloso di una finta primavera ma domande impegnative sfidanti ovviamente parto da una constatazione che traggo dalla mia esperienza ahimè pluridecennale e che forse viene col tempo è stata un po' negletta nella diciamo nella coscienza collettiva di questo milieu cioè di coloro i quali comunque concorrono a fare giustizia che è quella per il quale l'avvocato ha una funzione molto particolare che è quella di essere una vera e propria cinghia di trasmissione tra il giudizio tra la sentenza e chi subisce quel giudizio vogliamo usare una terminologia abbastanza ricorrente cioè una giustizia di prossimità ecco noi esercitiamo proprio un vero proprio ruolo di prossimità presso il nostro assistito poi sta anche a noi un po' addestrarlo alle aspettative nel senso che non è che l'avvocato che faccia insomma che eserciti il suo ruolo non è chiamato a coltivare sogni o castelli in aria deve portare il suo assistito su un piano di realtà per capire quale sono le possibilità cosa dice la legge qual è la giurisprudenza cosa non facile tant'è che adesso sembra che ci possa dare una mano all'intelligenza artificiale quindi a cui insomma da boomer guardo sempre con molto sospetto quindi questo è un primo punto negli anni poi però vorrei un attimo chiusare se mi consentite su un aspetto che poi riprenderò più avanti che è quello per il quale alla fine se noi pensiamo al cittadino corrette le indicazioni da cui è partito Gerardo Colombo diciamo nel l'idquot plurunque acidit già come cominciamo a parlare difficile insomma di quello che normalmente accade però alla fine se vogliamo rendere più generale una riflessione il concetto di indipendenza rispetto al cittadino che è chiamato a fruire del suo malgrado a volte del servizio giustizia è strettamente correlato alla tutela effettiva delle garanzie e dei diritti cioè vorrei dire che un'indipendenza disancorata dalla tutela delle garanzie e quindi del giusto processo finisce irrimediabilmente per essere vissuta dal cittadino come l'ennesima l'ennesimo riflesso di un potere ingiusto arrogante e terribile come qualcuno negli anni nei secoli passati lo ha definito ci torneremo volevo poi invece riflettere su quella che è stata la mia esperienza pluridecennale sul percorso che questa sulla parabola che questa che la tutela di questi principi l'insidie che questi principi hanno subito in questi decenni hanno in qualche modo concorso a un risultato che è sicuramente quello di una magistratura che si è dovuta a volte chiudere in se stessa per difendersi e nel far questo inevitabilmente ha sfiorato scivolata su una dimensione autoreferenziale che ne ha un po' reso asfittico a quello che è stato invece tradizionalmente un grande polmone di pensiero perché quello che ricordava Gerardo Colombo negli anni immediatamente dopo gli anni settanta cioè tutta quella giurisprudenza che ha concorso a rendere costituzionale la legislazione italiana perché di questo si è trattato naturalmente è un retaggio del passato che probabilmente credo mi perdonerete ma io normalmente sono molto cerco di essere diretto e schietto i giovani magistrati non hanno nemmeno un ben chiaro è il riflesso immediato di questa necessaria questo inevitabile a volte arroccamento perché ci siamo passati cioè sono stato testimone so che cosa sono stati certi anni ed erano gli anni in cui era difficile prendere una posizione perché o stavi con il re o eri contro il re ma in quegli anni poi il rischio sapete qual è dal mio punto di vista è la burocratizzazione della vostra funzione cioè il giudice burocrate che comunque interpreta la sua funzione come qualcuno che deve decidere su una determinata domanda e lo fa cercando di stare dentro lo schema di una giurisprudenza molto molto complessa e complicata tanto complessa e complicata da diventare a sua volta fonte di legislazione e al riparo di quella giurisprudenza perde di vista che cosa l'equità il dato umano la stessa dinamica del processo che è un potere esercitato da un uomo su un uomo capace di devastare una vita capace di devastare una 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 reputazione e questo a volte fa capolino nell'esperienza dell'avvocato ve lo dico con molta sincerità dopodiché purtroppo la giustizia è stato un campo di battaglia che non ha fatto a volte prigionieri dove si è svolta e si sta svolgendo da decenni il confronto di una politica incapace di assumere le proprie responsabilità perché è vero che si può essere il cittadino può pensare che sia il giudice che sia la magistratura nel suo complesso ad eliminare la piaga sociale delle 4 euro l'ora che sono però non dimentichiamolo mai il risultato di una contrattazione sindacale cioè quindi ma quel problema lì non è immediatamente vostro è un problema del legislatore quindi il cittadino non dovrebbe chiedere a voi giustizia dovrebbe andare alle urne e prendere posizione rispetto a quella in giustizia e rientriamo quindi nella funzione di supplenza che è una funzione che ha negli anni perso quella connotato aureo che era tipico dei pretori d'assalto ed è diventata poi qualcosa che si è allontanata da quella si è allontanato da quel tipo di dimensione quando lei diceva dottor Crepaldi il rischio che il giudice assume a volte dovendo prendere una decisione allora se e torno quindi a quella postilla che avevo fatto inizialmente cioè se l'indipendenza per vivere in maniera autentica presso l'opinione pubblica presso la società civile ha bisogno di una tutela essenziale efficace dei diritti costituzionali di garanzia cioè quindi ha bisogno in una parola del giusto processo bene il problema che forse più di tutti in questa fase nella nostra epoca storica insidia l'autonomia anche interiore l'indipendenza interiore del giudice non in tutti i procedimenti ma nei procedimenti sicuramente quelli più significativi è proprio il confronto con l'opinione pubblica o meglio è il confronto tra il meccanismo processuale e la sua mediaticità non sono pochi i giudici che sono stati costretti lo dicevamo nella nostra telefonata ad uscire da una camera di consiglio sotto scorta perché la giustizia in alcune situazioni che non sono residuali sono situazioni molto ricorrenti più ricorrenti di quelle che le cronache poi ci ritornano alla nostra attenzione ci sono situazioni in cui la giustizia è rivendicata come una sorta di vendetta e soprattutto come una sorta di convalida di un giudizio che si è creato in un tempo molto veloce molto più veloce purtroppo dei nostri tempi dei tempi della nostra giustizia e se quella convalida non arriva anche in maniera non del tutto omogenea basta anche qualcosa basta che vengano condannati tutti ma non l'amministratore delegato perché il giudice ha ritenuto che non poteva nella catena di comando non poteva essere condannato basta solo quello per poter reagire addirittura con violenza allora questo è un problema grosso nella in una conferenza che nel 1949 si tenne all'università di Catania quella poi contenuta nell'opuscolo il mistero del processo di Satta Satta richiama un passo delle lezioni sul processo penale di Carnelutti e dice ma sostanzialmente questo quando il pubblico che ha diritto ad assistere al processo e secondo Carnelutti quel diritto risiede nel fatto che comunque parte del processo supera dico testualmente perché è una frase che si ricorda facilmente quella sottile barriera di legno la balaustra delle corti di assise di una volta ecco quando lo supera il giudice non è più in grado di fare un giudizio ecco noi quel superamento lo assistiamo in maniera quotidiana e io penso che tutti noi dobbiamo riflettere per cercare di trovare un antitodo rispetto a questa pressione così forte che si esercita sul giudicante ma anche sul pubblico ministero se non si è chiudo se non si è consapevoli che solo l'esercizio effettivo delle garanzie nel processo metta al riparo la giustizia e quindi il giudice da una da una sentenza ingiusta perché non sono state rispettate le regole perché si è condannato senza adeguate prove è chiaro che se questo non viene perseguito l'effetto sarà presso i cittadini la paura e sarà questo il sentimento attraverso il quale poi vivranno l'indipendenza e l'indipendenza sarà vissuta come un privilegio odioso il giudice per chiudere non deve cercare il consenso deve cercare la fiducia dei cittadini e solo attraverso tutela dei diritti nel processo e del processo io credo che la fiducia possa acquistarla e soprattutto mantenerla e allora la domanda che faccio a questo punto a Elio è la giustizia i giudici sono il processo soprattutto il processo penale ma non solo sono tutti i giorni in televisione sui giornali sono una cosa che ormai appartiene in via diretta al cittadino il cittadino lo vive lo vive se vuole quotidianamente tutti i giorni con approfondimenti su ogni singolo elemento sorto nel processo mediaticamente interessante ma in tutto questa valutazione del caso concreto qual è il ruolo dell'indipendenza della magistratura come viene vissuta come la percepisce il cittadino è vero quello che diceva prima Gerardo cioè il cittadino vuole il giudice che gli dà ragione o c'è ci sono dei casi in cui sente l'esigenza di un giudice veramente indipendente da tutto anche da se stesso allora una alla volta credo sia chiaro a tutti che io sono qui perché vittima di una trappola che mi è stata attesa dall'amico dottor Colombo che ammiro da tanti anni no però è chiaro che se non mi fosse stata attesa questa trappola io non avrei mai pensato neanche lontanamente di essere qui oggi ma neanche fra il pubblico ma lo dico in modo serio cioè non per fare una battuta perché allora innanzitutto io oggi ho ascoltato con interesse delle cose interessanti che in maggior parte ignoravo e le ho ascoltate perché mi sono chiesto mentre ascoltavo perché sono state esposte da persone competenti di alto livello mi sento un po' come quando nel 2015 anche lì per un'altra trappola io sono vittima spesso di trappole mi hanno chiesto di commentare i campionati mondiali di rugby sport che io ignoro ignoravo ignoravo e io li commentavo in mezzo fra due campioni eccezionali che sono Dominguez e John Kirwan che è una stella degli All Blacks e io grazie a loro a forza di battute ho imparato il rugby ma l'ho imparato non poco tantissimo perché loro mi hanno anche detto un sacco di cose che non si imparano se leggi un libro o neanche se giochi un po' a rugby loro sono due campioni che hanno visto qualunque cosa insomma quindi erano in grado di insegnarmi tantissimo e la stessa cosa mi rendo conto accade oggi perché adesso tante cose mi sono un po' più chiare ho anche diciamo altri dubbi che nascono dalle cose che ho che ho che ho ascoltato ma un concetto che mi è molto chiaro è che il cittadino medio di queste cose non sa nulla io penso di essere un cittadino anche piuttosto informato mi tengo informato attualmente sono informatissimo sul processo Trump che sta andando in scena in America e non ho potuto fare a meno di pensare che su quella cosa lì io so tante cose e mi appassiono perché poi diciamo a contorno ci sono dei collegamenti con studi dove ci sono persone competentissime che parlano di quello che sta accadendo lì io come essere qui oggi e io qua in Italia invece non vedo questo genere di commenti e ripeto ancora una volta competenti io quando mi informo sul processo a Olindo e Rosa o su altre case insomma che interessano molto pubblico trovo commenti non so stavo stavo raccontando prima lui che attualmente va bene parlo di una rete non proprio di ne di Rai1 ne di di una rete principale però il commentatore teoricamente esperto è uno dal volto che mi era noto ma non non mi era chiaro perché e poi pensando mi sono accorto che era il vice di Costantino Vitaliano anni fa c'era un altro che si accompagnava lui quindi inferiore a lui che attualmente è riapparso dopo tanti anni come commentatore esperto cosa sa quello cioè come può insegnarmi cose che io non so e mi pare che la media sia un po' quella cioè il cittadino anche se non ha nessuna intenzione di apprendere cose nuove importanti non ne ha modo attualmente anche perché come è stato detto prima le cose sono cambiate molto negli ultimi anni adesso ci sono gli influencer un'altra cosa che ho pensato prima mentre ascoltavo era che se a posto mio ci fosse stato Fedez qua ci sarebbe stato pieno di televisioni quindi un interesse ancora più alto per questi temi che sono centrali quindi mi pare che andrebbe fatto da parte vostra uno sforzo in quel senso lì cioè non chiedersi perché i cittadini non sono informati bisogna fare in modo di informarli perché questi sono temi fondamentali io sono nato nel 61 e mi mi rendo conto di aver condotto una vita da uomo libero molto libero quando vado all'estero è chiaro che in alcuni casi noto cose che sono fatte meglio lì ma nella maggioranza dei casi vedo invece posti in cui si sta peggio rispetto a noi e quindi vuol dire che con tutti i suoi mali però bisogna fare in modo che questo Stato continui ad andare avanti come è andato avanti fino a oggi questa è la mia opinione da cittadino non da esperto quindi la prima cosa che mi viene in mente è che la costituzione meno si tocca e meglio è terminerei qui perché se aggiungo roba posso aggiungere un'ultima nota diciamo per il detto mal comune mezzo gaudio sappiate che anche i giudici di talent non sono completamente indipendenti c'è una minaccia minaccia anche sui giudici di talent poi gli autori poi nel secondo giro ci spiegherai se è un questione di indipendenza interna o esterna e se esterna e quindi qual è il vostro modo di difendervi da queste fottersine non so se si può fare anche qua di fottersine è vero l'insegnamento del fottersine secondo me è l'ideale per iniziare il secondo giro di dibattito che contura insomma ovviamente è ben accetto il riprendere parti di cosa si è detto spunti di riflessione ce ne sono stati tantissimi però quello che diceva l'avvocato Scuto mi dà il modo di riprendere un tema che secondo me è il nuovo orizzonte del vero dell'indipendenza del magistrato cioè il magistrato di fronte alla responsabilità sociale delle sue decisioni quella che Luigi Ferraioli chiama responsabilità sociale cioè la giustizia amministrata in nome del popolo e il popolo però vuole una giustizia che non è sempre la giustizia che deriva dall'applicazione della legge non coincide sempre l'aspettativa della collettività con quello che con la decisione allora nell'assetto cominciando sempre dalla professoressa Biondi nell'assetto costituzionale quali sono i rapporti tra questa e nella nella sua esperienza di giurista quali sono i rapporti tra questa responsabilità del giudice nei confronti della cittadinanza nel cui nome esercita la giustizia e il ritorno cioè quelle scene in cui faceva riferimento prima l'avvocato Scuto che ci sono state in questo paese di giudici interrotti alla lettura del dispositivo da tentativi di ottenere una pena diversa che poi è sempre ovviamente più alta di quella che viene inesorabilmente erogata o decisioni diverse abbiamo visto manifestazioni fuori dai tribunali dopo la lettura di un dispositivo non soddisfacente perché non dava abbastanza rilievo a un evento che per chi l'aveva subito era tragico in una misura che non corrispondeva alla misura delle responsabilità individuali accertate quali sono i meccanismi che ci sono e che si possono ipotizzare in questo tema in questa sfaccettatura dell'indipendenza grazie ho preso degli appunti sparsi perché non mi ero preparata queste domande quindi già metto le mani avanti siamo nella stessa situazione volevo solo riprendere due cose perché il dottor Colombo prima ci ha detto il cittadino vuole un magistrato che gli dia un giudice che gli dia ragione io non sono d'accordissimo secondo me il cittadino vuole un magistrato preparato no la maggior parte dei cittadini secondo me o delle persone hanno fiducia temono diciamo così di non avere di fronte o di non ricevere la decisione che si loro non gli dà torto però a volte se viene dato torto in un certo modo il processo è condotto in un certo modo la decisione è accettata allora il tema della valutazione di professionalità della responsabilità civile non entro nel merito delle singue questioni ma messe tutte insieme a me danno la sensazione che invece il cittadino diciamo così voglia essere sicuro che se il giudice sbaglia non è attento non è preparato non sto dicendo dei rimedi ma l'atteggiamento del cittadino è di essere certo che il sistema garantisca una diciamo così applicazione giusta ma non per lui un'applicazione giusta della legge quindi come atteggiamento del cittadino non metterà il cittadino che a tutti i costi vuole aver ragione insomma atteggiamento un po' di sfiducia anche nei confronti dei cittadini seconda questione non si occupa dell'indipendenza esterna non gli interessa che questo tema grande tema che io ho messo sul tappeto che invece ha ripreso molto l'avvocato Scuto beh non se ne interessa forse tutta la cittadinanza però di cittadini attenti alla qualità della democrazia ne abbiamo io mi auguro che ci siano perché questo è un problema di qualità del sistema democratico e soprattutto ci sono questioni che riguardano i rapporti tra i poteri che però poi hanno delle ricadute concrete sui diritti dei cittadini perché io perché i cittadini si possono disinteressare di alcune scelte che il legislatore fa ma poi quando toccano lui e si ritrova di fronte al giudice il giudice che non ha timore di finire sui giornali di ricevere pressioni di ricevere critiche non ha il timore o di applicare la legge o di sollevare questioni di legittimità costituzionale perché il giudice che solleva questioni di legittimità costituzionale mettendo in discussione temi che sono stati controversi su cui il dibattito pubblico si è diviso in cui sono state fatte scelte divisive o su questioni appunto che hanno un impatto economico forte è solo un giudice che non teme pressioni che ha il coraggio di chiudersi nella sua stanza e di sollevare una questione di legittimità costituzionale mettendo in discussione scelte che riguardano le politiche dell'immigrazione i diritti fondamentali questioni eticamente sensibili quindi io credo che il tema della indipendenza esterna dal potere politico sia un grande tema però ecco lo diamo in parte per scontato perché la costituzione lo tiene ben salvo invidiabile che le ha fatto Gerardo Colombo però è interessante perché secondo me finora due sono state le impostazioni Gerardo dice è una questione di schema o è una di schema di pensiero all'interno del quale si colloca il processo o è un problema di educazione o è di cultura quindi di come viene percepito il processo di come è il processo o è un problema di preparazione di fiducia che deriva dalla preparazione o tutte le cose allora il guanto di sfida sulla separazione delle carriere ma io ho meditato questo momento di riflessione con voi un po' prescindendo da quel tema però lo affrontiamo nel senso spiego perché perché credo che è sacrosanta l'esigenza di tutelare l'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero qualora fossero separate le carriere questo è un vecchio baluardo di chi ne è stato sempre convinto della separazione ed è stato sempre uno dei motivi di critica di chi invece non voleva la separazione qui il problema dell'indipendenza è proprio l'esercizio della funzione del decidere dove magari potrei anche dire no dice vabbè allora un giudice distinto in maniera netta dal pubblico ministero è in grado di poter avere una funzione di esercitare una funzione di terzietà sicuramente maggiore rispetto al giudice che invece ha una provenienza promiscua col pubblico ministero io credo che questi aspetti qua che ho vissuto molto quando mi affacciai alla professione e c'era ancora il vecchio codice poi ho vissuto l'ingresso del nuovo codice è vero Gerardo che è stato un innesto ad una e forse è stata una fuga in avanti nel senso che la cultura processuale del paese non era pronta e questo si vede anche dalla reazione che poi si creò oggi quello schema lì però è in costituzione quello schema lì è in costituzione perché il sistema ed è proprio non tanto è proprio il metodo il metodo del contraddittorio come quello che garantisce una delle diciamo la natura più intima e più delicata e più da tutelare della funzione giurisdizionale che è la funzione cognitiva noi non siamo l'America nel senso che noi il giudice in Italia per sua cultura ma anche per il sistema che lo porta a questo siccome decide e non fa l'arbitro e siccome un conto è convincere il giudice togato un conto è convincere il giudice popolare noi siamo stati adesso brevamente ma siamo stati chiamati anni fa in una rappresentazione teatrale alla teatro pavillon dove dovevamo difendere tu accusavi Amleto io difendevo Amleto a decidere furono chiamati alcuni spettatori che andarono in camera di consiglio il giudice e tutti i ruoli giudice cancelliere erano effettivi tranne gli attori che facevano Amleto quel processo nonostante Amleto fosse chiaramente colpevole l'ho vinto quando 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 ho incontrato il giudice che rappresentava il giudice lo dico Oscar Maggi gli dico presidente io con lei i processi li vinco solo al teatro perché era così e lui mi disse certo perché mi hanno messo in minoranza perché è evidente che quei giudici popolari lì si erano fatti suggestionare ora tornando a noi quindi lo schema è comunque quello costituzionale ed è per me uno schema corretto cioè il tema del contraddittorio delle parti che si confrontano davanti a un giudice terzo la possibilità di poter quindi raccogliere in quel contesto la prova è sicuramente un metodo cognitivo prezioso noi qui abbiamo un grosso problema nel nostro sistema che sono banalmente i numeri quindi tutte quelle forme che tu ricordavi opportunamente cioè la messa alla prova ma non solo quella tutti quei percorsi che sono stati anche introdotti recentemente e che non sono stati e non continuano ad essere diciamo visti no ma visti anche come un certo fastidio dall'avvocatura in realtà dovrebbero invece essere sperimentati frequentati e colti nella loro migliore essenza che è quella di deflazionare il processo di trovare quindi una strada di soluzione del conflitto diverso ad una condizione che però il processo ritorni ad essere un valido efficace sistema di cognizione del fatto sulla base del quale poi si esercita la funzione giurisdizionale il tema della responsabilità sociale dei magistrati se noi pensiamo che pronunciare le sentenze e qui nessuno di noi lo pensa che pronunciare le sentenze in nome del popolo significa andare inevitabilmente a incrociarne desiderata naturalmente commetteremmo una una violazione straordinaria dei principi costituzionali però attenzione che un po' il rischio è la è la è la deriva di una certa dinamica sociale è questa e quando dicevo molto sinteticamente prima che quindi non è il consenso quello che deve andare a ricercare il giudice ma è la fiducia e la fiducia non sta solo nella preparazione la fiducia sta anche in una seria evoluzione culturale che un filosofo che voi tutti conoscete che accompagnò parlo di dell'autore di diritto e ragione quindi di Ferraioli che accompagnò l'entrata in vigore del codice io quegli anni me ne ricordo bene perché ero giovane e volenteroso e accompagnò quella stagione con quel libro straordinario che era diritto e ragione oggi chiude una sua stagione di pensiero nel senso che con un altro libro che è interessantissimo che è giustizia e politica che un po' fa il consuntivo di una stagione pluridecennale ed è un consuntivo amaro per molti aspetti ma quando già nei primi anni dopo il 2010 Ferraioli al congresso di magistratura democratica richiamava le regole deontiche che sono quelle che ancora oggi potrebbero costituire l'oggetto della nostra riflessione che sono la consapevolezza dei limiti del potere giudiziario l'etica del dubbio il rispetto di tutte le parti in causa i giudizi che vengono sui fatti e non sulle persone la comprensione equitativa della singolarità di ciascun caso il rifiuto del creazionismo giudiziario che è strettamente legato all'inflazione legislativa e normativa dalla qualità pessima che ci troviamo tutti noi ogni giorno ad affrontare il valore non del consenso popolare ma della fiducia delle parti il rifiuto del ruolo di custodi della moralità pubblica il rifiuto di ogni strumentalizzazione politica della giurisdizione il rifiuto del carriereismo quale regola di stile ci possiamo dobbiamo ragionare su questo ed è un ragionamento a cui devono contribuire tutti i protagonisti del processo cioè gli avvocati non possono disinteressarsi di questa però insomma io non darei mai nulla per scontato cercherei di continuare a ricordare anche ai cittadini il grande valore che questo ha e che può avere anche sulla ricadute concrete poi appunto anche per evicare quella burocratizzazione della funzione di cui parlare all'avvocato scuto perché se no davvero diventa appunto un atteggiamento burocratico la domanda la domanda che invece ci poneva adesso scusate ha la responsabilità sociale delle decisioni beh anche questo è un problema di cultura giuridica e secondo me di conoscenza di far conoscere la cittadinanza di non valorizzare troppo nel suo significato letterale perché è quello sbagliato l'articolo 101,1 perché la giustizia è amministrata in nome del popolo non crea nessun collegamento diretto tra i magistrati e il popolo la barriera è la legge subito dopo cioè quel popolo lì va collegato ai giudici sono soggetti soltanto alla legge ora se noi valorizziamo questa idea i giudici sono soggetti al nome del popolo noi creiamo diciamo così una contrapposizione tra poteri che hanno legittimazione diversa i giudici non hanno legittimazione democratica legittimazione democratica ce l'ha il potere politico i giudici hanno una legittimazione tecnica il loro foro interiore deve rimanere interiore devono applicare la legge se la mettono in discussione lo possono fare soltanto sollevando questioni di legittimità costituzionale senza temere reazioni o senza temere diciamo così ripercussioni questo è il modello ma è un modello che ripeto sembra teorico ma in realtà ha delle conseguenze pratiche notevoli per cui questo che cosa significa che ovviamente non ci dovrebbero essere queste reazioni che i giudici devono far finta di niente che possono fare ma nel contempo non devono cercare anche il contatto ovviamente non corretto con la stampa con la città non devono cercare la legittimazione democratica quindi diciamo così la responsabilità viene da tutte e due le parti ecco credo di aver spero di aver risposto questa distinzione tra consenso e fiducia che è stata evocata anche prima dall'avvocato Scuto e sulla quale adesso vorrei che intervenisse Gerardo Colombo mi porta ad aprire un tema sul quale Gerardo prima è intervenuto e che secondo me è uno spunto di riflessione molto interessante cioè oggi il potere mi pare tu abbia sostenuto prima correggimi se ho capito male il potere da cui a cui aprire i cassetti non è più quello politico che è un potere estremamente debole il potere a cui aprire i cassetti per forse forzo provoco dimostrare fino in fondo la propria indipendenza è quello economico mediatico facevi l'esempio di Twitter prima allora rispetto a chi ha un così forte impatto mediatico e quindi ha una così forte capacità di incidere sull'esistenza di uno e ciascuno dei cittadini quindi compreso il giudice che io dico spesso quando vado nelle scuole va a fare la spesa va allo stadio quindi partecipa della vita della vita quotidiana e quindi in qualche modo non adora essere guardato può non adorare essere guardato con ribrezzo dalla cittadinanza ecco questa questa questo aspetto è un aspetto che manzionaneamente si potrebbe ricondurre alla l'indipendenza a una connotazione che tu hai e se non ce l'hai nessuno te la può dare come il coraggio di Manzoni o c'è qualcosa di più di più istituzionale in tutto questo c'è un ruolo della magistratura anche associata in questo in questo contesto ma io sono sempre io sono convinto che tutte queste questioni sono questioni risolubili attraverso l'educazione cioè sono questioni di cultura e rifacendomi all'intervento della di Francesca Biondo della professoressa Biondo io condivido quello che dicevi a proposito della dell'atteggiamento dei cittadini nei confronti della giustizia soltanto però nella misura in cui la giustizia è capace di far vedere che quel che fa è giusto ecco e allora lì però io secondo me esiste una certa discrepanza tra l'atteggiamento così fortemente inclusivo della Costituzione e l'atteggiamento così secondo me nettamente dividente del modo di amministrare la giustizia cioè sarebbe secondo me alla fine infine molto semplice ottenere il consenso anche della soccombente tra virgolette in una causa civile nel momento in cui la causa civile fosse risolta attraverso una transazione cioè nel momento in cui tutte e due sono convinti che è giusto fare così ma questo è eccezionale e magari delle volte io so rendermi antipatico è eccezionale anche perché il giudice non si è preparato adeguatamente per riuscire a stimolare una soluzione del genere quando può essere più facilmente raggiunta cioè se arriva alla prima udienza molto molto ancora molto ben preparati sto parlando del civile allora è più facile se arrivi senza conoscere se non approssimativamente gli atti è estremamente più difficile primo secondo è per quel che riguarda il penale il problema ancora maggiore perché lì esistono veramente due secondo me due modi di intendere proprio il modo di esercitare è la giustizia penale il processo accusatorio è assolutamente divisivo e non c'è niente da fare uno ha ragione l'altro ha torto al limite al limite che nel processo accusatorio alla fin fine non ha tanto tanto senso guardare chi ha ragione ha senso soprattutto guardare chi è più bravo in America e ma anche qui e qui no perché noi siamo contaminati noi noi in America è vero in America è così e chi è più bravo è una dimensione agonistica esatto esatto ma perché loro sono calvinisti poi e quindi Dio sta dalla parte di chi è più bravo di chi è più bravo punto e basta qui invece noi abbiamo se posso permettermi in qualche misura subito quella parte di processo accusatorio che è stata inserita in un sistema culturale che è un pochino meno accusatorio è ragione per cui perché invece noi qui siamo proprio diversi culturalmente ecco e allora riuscire a praticare la giustizia penale in modo da arrivare a una specie di tra virgolette conciliazione delle parti anche lì e beh diventa quasi impossibile diventa quasi impossibile allora nel penale secondo me il torto è la ragione caspita cioè il fatto di approcciare il processo penale cercando di avere ragione ragione per cui se non ti danno ragione fino in fondo allora ci sono le parti civili che si mettono a strillare in udienza e viceversa gli imputati allora lì dipende proprio dalla direi dallo schema processuale che non consente di arrivare a una soluzione diversa alcune misure secondo me alcuni istituti che sono stati introdotti come per esempio la messa alla prova che risolve il processo prima della condanna tutto quel che potrebbe risolvere che potrebbe aiutare a risolvere il processo prima della sentenza di condanna potrebbe essere estremamente utile però secondo me noi stiamo lì con in questa indecisione da una parte e in questa alla fine necessità di sopportare uno schema che non è lo schema nostro e ancora una volta in questo c'entra molto anche il tema della separazione delle carriere prego avvocato a parte l'assist veramente di una problematica di questo tipo come per me voi magistrati non potete disinteressarsi della disinteressarvi della formazione della cultura dell'avvocato perché poi in fondo noi siamo chiamati a confrontarci siamo chiamati a confrontarci noi che facciamo penale sul corpo di una persona su una persona alla quale dobbiamo garantire un processo che sia il più giusto possibile e che quindi che si muova attraverso l'applicazione corretta di quello schema che è costituzionale è quello del giudizio della prova che si forma nel contraddittorio davanti a un giudice terzo oggi a me basterebbe garantire questo prescindendo dal problema della separazione delle carriere che è un problema di fondo un problema istituzionale però io ho visto non ho difficoltà a dichiararlo che dal 90 dall'85 a oggi le cose sono cambiate c'è ancora uno zoccolo culturale che è un tipico dell'appartenenza alla stessa cultura zoccolo culturale che potrebbe e dovrebbe abbattersi se quella cultura fosse di tutti in Germania i giuristi si formano insieme magistrati avvocati pubblici ministeri e ciascuno di loro poi riconosce l'altro inevitabilmente questa mancanza di riconoscimento che c'è è sicuramente uno dei motivi per i quali l'applicazione di quello schema stenta e rende difficile anche al giudice assumere una decisione come frutto e riflesso diretto della sua indipendenza grazie avvocato scuto grazie a tutti visto che è stata una trappola lui così l'ha definita e che la responsabilità è di Gerardo Colombo quindi tutto sommato la giunta può sentire il proprio animo leggero nel lasciare a lui il ruolo di chiudere questo incontro con le riflessioni che gli sono venute da quello che ha ascoltato e con uno spunto interessante secondo me riguardo a quello che ha detto prima cioè che si è molto appassionato al processo a Trump ecco la sensazione è che è molto più strong rispetto a noi cioè l'ultima cosa per farvi ridere che ho ascoltato è che sembra che Trump in aula scorreggi per dire però è un modo anche per attirare l'attenzione su quello che accade in aula solo che si addormentava abbiamo prima questo prima questa lì era la parte 1 la parte 2 scorreggia ma sono voci però sono più voci no vabbè adesso era solo per farvi ridere io l'ho ascoltato con attenzione anche molto ammirato benché non abbia compreso circa la metà delle cose che sono state dette soprattutto dall'avvocato c'ho in mente questa storia del creazionismo giudiziario che sarebbe bello anche dopo se mi spiegasse no io insisto su una cosa che ho detto prima cioè sarebbe molto bello se esistesse un social diciamo con molti follower in cui si potessero ascoltare non dico quotidianamente però spesso pareri di gente competente cioè io trovo che un male di questi tempi sia il fatto che le cose vengano dette al pubblico diciamo al grande pubblico da gente incompetente cioè non competente che però ha molto seguito questo genera poi delle opinioni che sono sbagliatissime e quindi genera un sacco di effetti negativi non so cosa aggiungere d'altro sono alla fine sono abbastanza contento di essere stato qui ecco posso assicurarvelo posso assicurarvelo se questo incontro invece di essere stato fatto qua fosse stato organizzato fuori in un altro posto forse ci sarebbe stato più pubblico esterno credo che che l'obiettivo sia quello poi alla fine informare i cittadini che hanno voglia di essere informati su temi che sono importantissimi al di là delle ultime cose che erano molto tecniche ma quelle diciamo della prima parte erano mi sembra tutti temi molto interessanti e molto importanti vorrà dire Elio che organizzeremo altri incontri come questi fuori da palazzo ti inviteremo ancora volentieri a partecipare e così conosceremo da te gli ulteriori evoluzioni del processo al presidente Trump che sembrano interessanti effettivamente sono interessanti ma sono anche chiari adesso esagero perché poi vengono commentati come ho detto prima da un tavolo in cui c'è un ex giudice un avvocato di grido c'è l'ex avvocato di Trump che adesso è il suo principale avversario quindi sa tutto su Trump è una roba interessantissima e poi spiegano dettagliatamente tutte le regole e le norme ad esempio là ci sono delle norme di comportamento le chiamano gag order cioè sono delle regole che l'imputato è obbligato a seguire e che ovviamente Trump non segue Viola continuamente quindi adesso pare che lo condanneranno anche per quella roba lì grazie a tutti della partecipazione speriamo che sia stato un interesse e alla prossima occasione grazie grazie a tutti grazie a tutti